Si riaccende la polemica tra Regione Lombardia e Governo sul tema vaccini. Dopo infatti la maxisperimentazione che si è tenuta nei padiglioni della Fiera di Milano lo scorso weekend, che ha dato il primo assaggio del metodo Bertolaso con la vaccinazione in due giorni di circa 2.500 volontari a Reu, secondo la neo-assessora al welfare Letizia Moratti, la Lombardia sarebbe pronta per iniziare con la fase 2 delle vaccinazioni, se solo da Roma però arrivassero certezze sulle dosi di vaccini che verranno inviate alla Regione, ma anche sul numero di personale da utilizzare per le somministrazioni che dovrebbe arrivare per la campagna. Per Moratti è necessario infatti che venga rispettato l'invio promesso di un apporto di risorse umane aggiuntive. Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, scrive l'assessore di Regione Lombardia in una nota, avrebbe previsto per febbraio l'arrivo in Regione di personale sanitario a supporto, medici ed infermieri per un totale di 123 unità, fino ad un massimo di 2.544 addetti al mese per giugno, luglio ed agosto, ma ad oggi nessuno si è visto, ha concluso la Moratti. La risposta di Arcuri però non tarda ad arrivare. In realtà il personale aggiuntivo già selezionato e destinato alla Lombardia è di gran lunga maggiore, si legge in una nota del commissario. Si tratta infatti di 229 fra medici, infermieri e assistenti sanitari, ha spiegato Arcuri, che ha anche evidenziato come la colpa dei ritardi sarebbe solo imputabile alla Lombardia. Di questi 229, ha sottolineato infatti Arcuri, purtroppo soltanto 4 hanno già potuto entrare in servizio presso la TS di Pavia, tutti gli altri sono infatti in attesa, ormai da diversi giorni, delle necessarie visite mediche da parte delle ATS regionali. Gli uffici del commissario, ironizza infine la nota, hanno sollecitato gli adempimenti ai referenti Lombardi per poter soddisfare le richieste dell'assessore Moratti.